Musica Guarda, cerchi i cervelli per business fruttuosissimo Cerchiamo un grafico, una grafica, un ingegnere dinamico, un esperto a rendere, un economista, una ballerina Le ballerine le escludo a priori Allora, economista ci sei Ti spiego brevemente che cos'è? Sì Allora, la nostra intenzione è quella di fare Di mettere pubblicità Cioè di fare gli airbag pubblicizzati Che apparentemente può essere una provocazione Però in realtà le aziende che sono autoironiche Possono essere interessate a brandizzare quello che è una pura provocazione È ovvio che la cosa fa notizia Ma quando andiamo per brandizzare? Tu fai un incidente e ti esplode l'airbag con il sito Ikea da tutte le parti Ah, ok, ok Noi abbiamo 5 ore di tempo per chiudere il progetto Presentarlo domani e presentare il progetto a delle aziende che intendono sponsorizzare la cosa Ritorniamo in ingegneria e cerchiamo un esperto di rendering A meno che tu non abbia un amico che sape usare Cinema 4D, AutoCAD o... Ah sì? Non lo so, già, AutoCAD Ecco qua perché sei qua Piliamo Sergio, gli diamo il microfono e insieme a Jackson ne vanno a ingegneria E noi andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare Come vedete ci troviamo in ingegneria, in questa fantastica cornice, come direbbe Pippo Baudo Per cercare il ruolo mancante di questo gruppo di lavoro che è la ballerina, cioè la ragazza immagini del gruppo Il guaio è che mi hanno mandato a ingegneria all'orario di lezione, come potete vedere non c'è tanta gente E la considero un'impresa estrema, trovare una ragazza piacente e vogliosa di partecipare a questo progetto così d'emblè Per essere più credibile sto impersonificando l'uomo cartello vero e proprio Vedete anche senza mani riesco a tenerlo Ma vedo una ragazza, attenzione l'ultima mia chance Sono distrutto, è già tutta l'università che sto girando in cerca di questa ragazza GIP sta cercando per un gruppo di lavoro Già ormai, come puoi vedere, scelto Perché le V ci sono quasi tutte Purtroppo sono quasi tutti maschi Avremo bisogno di una donna Come dice qua il cartello, anche con un certo cervello Che però faccia anche immagine Perché se no, sai, l'immagine è importantissima di questo periodo Vorrei chiederti con molta parsimonia se tu vuoi partecipare a questo GIP l'ho trovata, è incredibile, ciao